Nel momento che tutto il mercato si trova in una situazione di estrema paura, gli smart money, come riportato anche dal bitcoin, gli smart money Inbix, che prendono in considerazione i large investors, stanno continuando ad accumulare bitcoin come se non ci fossero domani. Hi guys, qui è Ryan who goes to crypto, analista di Piducia, e in questo video guys voglio aggiornarvi con quello che sta succedendo sul mercato delle criptoroute perché abbiamo direzzi segnali che, nonostante stiamo assistendo alla degorezza generale del mercato, nel futuro prossimo potremo vedere un prezzo di bitcoin che sale a dismisura. Ed è per questo guys che dovete iscrivervi al canale, lasciare un like, ma soprattutto appimare la campanellina perché questo fa la differenza tra perdere soldi sui mercati e invece essere più pittabili. Infatti essere sempre on time, sempre sul pezzo, questo fa la differenza. Però guys, prima di andare a vedere diverse charts che volevo riportarvi, voglio andare a dare un contesto a questa analisi. Infatti partiamo con la visuale sulla crypto heatmap di CoinMarketCap, vediamo come bitcoin nell'ultimamente più quattro ore sta perdendo ulteriormente i 55.000 dollari, anche se vediamo come. E attualmente stiamo a 54.967 dollari, Ethereum è leggermente positivo dello 0,85%, infatti rimane stabile a 2.314 dollari. In linea generale comunque si è rimercatola in leggera ripresa. Più che leggera ripresa, infatti se vediamo con la visuale sulla global crypto market cap, vediamo come abbastanza i 2 trillion dollari e attualmente stia guadagnando un 0,76%, anche se sul settimanale vediamo come la maggior parte delle altcoin siano in negativo. Comunque sia, voglio partire dal weekly perché oggi, essendo due dì, abbiamo la chiusura che è avvenuta ieri sera. Purtroppo abbiamo confermato un lower blow, infatti vediamo come a partire dall'apertura alla chiusura della candela della settimana scorsa abbiamo avuto la chiusura a 54.830 dollari, dove la chiusura precedente del minimo precedente, che si è chiusa con la ripartenza della settimana dell'8 luglio del 2024, avevamo una chiusura minima a 55.800 dollari. Infatti se andiamo a prendere in considerazione il grafico all'ing, purtroppo vediamo come abbiamo un andamento di questi asset purtroppo discendenti. Infatti vedete come abbiamo confermato un minimo più basso rispetto al minimo precedente. Fino a dove potremmo arrivare a questo punto? A questo punto potremmo aver toccato già la trendline di Nandega che va a bilineare tutti i livelli di minimo durante questa fase di consolidazione a partire dall'inizio marzo. Ed effettivamente purtroppo potremmo vedere, qualora dovessimo continuare verso i bi-basso, e questo qui potrebbe essere un pattern di continuazione, il prezzo di Bitcoin arrivare tra i 50.000 e i 51.000 dollari. Perché? Perché questo è stato l'ultimo livello di fondamentale importanza che dobbiamo andare a prendere. Anche questo rapido crollo del 5 luglio del 2024 l'avevamo già preso. Passato con il daily, quindi ci abbiamo confermato un minimo in linea rispetto al daily precedente. Però comunque sia, attualmente stiamo ritestando il livello di forte importanza che potrebbe essere appunto quello, la zona fa 55.500 fino a 56.100 dollari. Quindi, guys, voglio vedere e recuperare in modo molto rapido questo livello, ok? Per andare magari a ritestare i 57.200 dollari. Perché altrimenti questo potrebbe essere tanto un ritaccamento, per poi una punti di panzone di danza e di basso, ok? Quindi, praticamente, il rotturo della zona, per poi il ritaccamento e continuazione sempre verso su di grafico e il livello dell'area weekly. Per quanto state show, volevo portarvi in esame anche all'equidation heatmaps su Graphical at One Year. Infatti, leghiamo come abbiamo tre livelli di forte importanza. Due sovrastanti all'attuale presso di Bitcoin e due sottostanti all'attuale presso di Bitcoin. Infatti, abbiamo una forte zona di interesse a 34.000 dollari. Abbiamo un'equidation leverage di 22,38 billion dollar. E attualmente, invece, abbiamo una corrispondenza verso l'anza a 70.500 dollari e a 72.000 dollari. Entrambi con un'equidation leverage media di più di 20 miliardi di dollari. Nonostante ciò, volevo riportarvi anche il comportamento degli smart money. Che, nonostante la situazione molto complicata, abbiamo visto che siamo in procinto di un FOMC. E infatti, andremo a vedere anche tutti gli eventi che accadranno in questa settimana e usciranno durante questa settimana. E soprattutto, potrebbero darci un'indicazione delle politiche monetarie che potrebbero adottare la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Americana. Dato che settimana prossima ci sarà l'FOMC. Nonostante questa situazione molto incerta, tutti gli Bitcoin Smart Money Index, che prende in considerazione soltanto i large investors, stanno accumulando Bitcoin come se non ci fossero domani, senza precedenti. Infatti, vediamo come nell'ultimo time frame abbiamo una situazione di accumulo molto, molto importante. Nonostante ciò, infatti, volevo riportarvi i gapi che potrebbero impattare durante questa settimana. Prima di portarvi anche un'assineralità tra questo ciclo di bull market, rispetto a quello tra il 2014 e il 2017. Nonostante ciò, infatti, guys, attenzione, perché a partire da questo mercoledì ci saranno i CPI numbers e i core CPI. E il suo partito vanno a definire l'andamento dell'inflazione degli Stati Uniti. Infatti, abbiamo un 0,2% di aspettativi, dopo un 0,2% di attesa. Anche se sul dato annuale abbiamo un 2,6% in confronto a un 2,9%. Nonostante ciò, attenzione, perché appunto la giornata successiva, giovedì 12 settembre, abbiamo anche soprattutto l'ECB Interest Rate Decision. Ciò vuol dire che sarà la decisione sul tasso dell'interesse della Banca Centrale Europea. Quindi, attenzione a questa situazione. Nonostante ciò, anche qui abbiamo anche l'Unemployment Flames e il Producer Price Index negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando, attenzione a mercoledì, perché abbiamo i CPI numbers, ovvero i gatti sull'inflazione per ciò che riguarda l'economia statunitense. Inoltre, abbiamo anche, nella giornata successiva, la decisione sul tasso dell'interesse della Banca Centrale Europea, che ricordo ha già adottato un primo taglio di 25 punti base. Nonostante ciò, riparlavo di questa somiglianza dell'andamento del pattern che ha formato nella scorsa bull run, tra il 2014 e il 2017, e invece l'andamento del 2022 e il 2025, che potremmo vedere appunto nella bull run. Abbiamo visto una situazione molto simile per ciò che riguarda la fase arancione, così definita anche la fase birdie, ricorrezione da partire dai massimi precedenti, fino al minimo locale. Poi abbiamo la bull run che è divisa in due fasce, ovvero il recupero e il ritesto dei massimi precedenti, stessa cosa che abbiamo avuto anche durante il CIFO del 2014 e del 2017. Inoltre, pare che, a livello parabolico, stiamo per entrare, a meno se dovessimo conformare, questo pattern nella fase 2 della bull run. Ciò vuol dire la fase di espansura definitiva, dove andiamo a rompere i massimi storici precedenti. Quindi, ragazzi, come potete vedere, qualora dovessimo assistere a una situazione del genere, potremmo vedere un Bitcoin che definitivamente va a rompere i massimi storici per andare a dei livelli molto superiori. Infatti, in Concomi Canceling Show abbiamo visto un settembre partire con negatività, lo abbiamo visto appunto sul settimanale di Bitcoin, che ovviamente si è ripercosso su tutti gli altri asset crypto. E inoltre, ragazzi, siamo in linea con l'andamento del partito del 1 settembre del 2020, del 2023, e attualmente vediamo un pattern molto simile a quello che stiamo vedendo appunto su Bitcoin. A partire d'ottobre, secondo gli analisti, potremo iniziare le partite. Anche qui, però, dobbiamo stare molto attenti alle politiche monetarie della Federal Reserve americana. Quindi, attenzione a quello che succede e poi andremo a rianalizzare questo pattern. Loro state show, guys, vi ricordo che c'è una nuovissima promo per quanto riguarda Bing X e per tutte quelle persone che fanno trading. Io consiglio di utilizzare Bing X e l'Exchange. Io stesso utilizzo principalmente uno dei pochi sponsor del canale, perché sapete bene come io vado a betrinirli e a venire bene molto i miei partner del canale, perché ovviamente mi vale la mia reputazione. E loro state show, vedete come c'è la possibilità di depositare per Wincharet. È un bonus esclusivo per voi. Avete la possibilità anche qui di andare a effettuare un deposito e ricevere il corrispettivo di un buono b-bonus. Non è stato show, guys. Iscrivetevi al canale tutti qui sotto la box. Da ora è tutto. Ci vediamo nel video di domani. Bye! Ciao a tutti! Ciao a tutti!